Gambassi è tradizione, dal 1970 il punto di riferimento per l'arredo casa, ufficio, giardino, forniture di hotel, ristoranti, caffetterie, con ampio showroom e magazzino. Design, i più grandi marchi per offrire la più ampia scelta ai nostri clienti. Professionalità e assistenza, personale altamente qualificato, consegne puntuali con mezzi propri. Fiducia, un rapporto consolidato con i nostri clienti da oltre 40 anni. Gambassi, a Vico Pisano. Buongiorno a tutti, vigilia della gara pisareggiana, conferenza stampa con il tecnico Alberto Aquilani che è a vostra disposizione. Cominciamo con le domande, Andrea Chiavacci, il tirero. Buongiorno mister, ti chiedo, prima di parlare dei termini della partita, ti chiedo qualcosa su Bonfanti, visto che è appena arrivato, credo si sia allenato, non so quanti veramente ho fatto con voi, ti chiedo che giocatore hai trovato, come sta, insomma, se domani possiamo vederlo anche magari a partita in corso. Sì, sì, Bonfanti è un calciatore giovane, forte, credo che prenderlo a titolo definitivo sia stata una grossa opportunità perché ha una prospettiva importante, perché è un giocatore per il presente e per il futuro, è una società che guarda molto anche a lungo raggio e quindi credo che sia stato fatto un colpo importante. È un calciatore che ha delle caratteristiche diverse da quelle che abbiamo e io mi auguro che abbia la fame di volersi imporre perché poi nei calciatori giovani è questo un po' il dubbio che ti vai sempre a porre, magari qualcuno è bravo, qualcuno ha delle qualità, qualcuno ha altre, però poi l'augurio è che anche questi ragazzi abbiano la fame di venire qui con la umiltà, la cattiveria di volersi imporre in una piazza così importante. Sì, sì, ha fatto un allenamento e quindi domani viene con noi, è a disposizione e quindi come gli altri poi faremo delle scelte. Michele Bufalino 2024 che è iniziato con Matteo Tramoni che è tornato ad allenarsi, ecco come sta il ragazzo, quanto vi prospettate come conclusione dei suoi tempi di recupero e poi magari se c'era anche qualche altra notizia, che ne so, su Barberis, su magari un Beruatto, se li potremmo vedere e se ci sono anche una notizia in questo senso. Sì, sì, siamo felici di aver visto Matteo soprattutto in buone condizioni, è tornato in una situazione un po' più avanzata rispetto a quella che credevamo, è ovvio che ha bisogno del suo tempo, adesso entra in un secondo step che è quello un po' della riatrealizzazione e quindi sai, quando fai un infortunio così grave ci vuole il tempo necessario, non c'è nessuna fretta, ma già vederlo correre per noi è un motivo di soddisfazione, sappiamo che è un giocatore veramente importante che abbiamo perso e che ci auguriamo di vederlo presto. Barberis e Beruatto domani no, non ci sono, sono ancora infortunati e quindi aspetteremo anche il loro progresso di recupero. Loro e il Reskin, poi il resto ci sono... Ancora Michele. Per quanto riguarda ovviamente il mercato che rimane, hai più o meno idea di cosa potrebbe altro servirti, tenendo presente che magari, come hai sempre detto, i giocatori che hai a disposizione sono i migliori che hai, però diciamo cosa ti aspetti, soprattutto su un tema che ha detto anche il Presidente qualche giorno fa in televisione, ovvero il fatto che comunque siete tanti anche nella Rosa, avrete sicuramente parlato anche di questo tema. Sì, sì, ma io quando dico che i giocatori che ho sono i migliori per me, voi mi dovete credere, nel senso che io vi dico la verità, non è che vengo perché voglio che poi loro mi sentono e pensano che allora io... No, no, io vi dico proprio, tanto vengo qui e vi dico sempre le cose che penso. Se c'era qualcosa che non andava venivo qua e lo dicevo. Sono giocatori importanti soprattutto perché lavorano da quattro mesi, cinque mesi quanto sono con me e oggi sono giocatori diversi rispetto a quando ci siamo visti i primi giorni in ritiro. Quindi per me l'aspetto più importante è quello che ritrovo dei calciatori migliorati per quello che intendo io, per quello che poi vado a richiedere io. Quindi poi andare a trovare sul mercato di gennaio, che è già un mercato difficile, dei calciatori pronti a fare quello che poi uno gli chiede diventa più complesso. È ovvio che il calciatore predisposto a questo tipo di calcio che uno va a richiedere ha un senso, il calciatore magari che deve venire qui ad adattarsi è finito l'anno. Quindi è un mercato di riparazione come diciamo. La società è vigile, però la mia idea è che poi se entra qualcuno deve entrare qualcuno che è meglio di quelli che ci stanno. E non è facile. E riguardo a voi, infatti siete tanti rosi. Sì, quello può essere un problema. Un problema perché quando sei così tanti entra dentro la gestione. La gestione vuol dire che qualche calciatore deve andare in tribuna obbligatoriamente. Se stanno tutti bene, addirittura in sette sono i giocatori che devono andare in tribuna e quindi questo può creare un po' di malumore, può creare qualche ragazzo scontento, però sono stato molto chiaro con tutti. Chi accetta di rimanere qui accetta anche il fatto che può andare in tribuna. Se va in tribuna non vuol dire che è escluso, ma è una scelta che è dettata dalla partita, dal momento, dalla condizione. Ma quella dopo magari può anche giocarla perché sono calciatori più o meno sullo stesso livello. Però sicuramente lavorare con così tanti calciatori è più difficile perché potresti andare incontro al calciatore che è un po' più scontento, che si allena un po' peggio, che trascina con una parolina qualcun altro e questo lo voglio evitare a tutti i costi. Con la chiarezza nei calciatori e anche con la società nel capire che un numero così elevato può creare a volte dei problemi. Lorenzo Vero. Volevo tornare adesso al campo, quindi se può darci una presentazione della gara di domani, prima di ritorno. Se si aspetta una reggiana simile a quella che ha incontrato, già ho delle modifiche. E come la squadra sta, avendo chiuso il 2023 in crescendo, come l'ha vista questa ripresa? La squadra sta bene, si è allenata bene, è tornata dalle vacanze nel modo corretto e soprattutto ha fatto una settimana molto buona. Mi aspetto una partita complicata, come diciamo sempre, probabilmente non del livello dell'andata perché è passato molto tempo, perché secondo me loro saranno una squadra diversa e noi siamo una squadra diversa e quindi è difficile dopo tutto questo tempo ritrovare e dire che sarà la stessa partita. È una squadra che ha qualità, una squadra che ha delle idee, che lavora bene, che ha dei giocatori forti e quindi sarà una partita veramente da approcciare nel modo giusto perché per noi è una partita importante, perché inizia un nuovo percorso, perché le prime partite sono sempre insidiose e perché ci teniamo a far bene. Giovanni Manetti. Buongiorno, ci siamo già andato. Dicevo, nella campagna di rafforzamento è più facile prendere un attaccante, indipendentemente dalle difficoltà di mercato, sto parlando per l'organico, e un difensore. Più difficile un centrocampista perché come giustamente è rilevato, sono quattro mesi che giocano insieme, hanno assimilato gli schemi, quindi chiaramente uno nuovo ha più difficoltà. Ultimamente ha recuperato Tourette e De Vitisse, ecco questo recupero di questi due giocatori ti conforta in vista del giro di ritorno come gruppo di centrocampi? Sì, sì, mi conforta molto perché abbiamo passato delle settimane qui dove facciamo la conta di chi c'era più di chi non c'era, quindi avere dei giocatori importanti a disposizione per me è un motivo di serenità, tra virgolette. Se vedo questi calciatori che si allenano e che so che possono essere utilizzati, io sto più sereno perché poi sono calciatori con caratteristiche magari diverse, vanno ad aggiungere qualcosa in base appunto alle proprie caratteristiche rispetto a quelli che magari hanno giocato di più e quindi sono recuperi che fanno comodo, fanno comodo nello spogliatoio, sono tutti ragazzi seri che stanno dentro e quindi sì, sì, sono contento e mi auguro di vederli il più possibile. Io mi rilascio alla domanda del centrocampo e ti aggiungo, Nagy è un giocatore che non ha avuto problemi a livello di infortuni ma si era visto meno nelle ultime due partite, si è visto di più con l'aschio del giocatore titolare, ha terminato secondo me bene, è un giocatore che può essere importante in vista del giro di ritorno al gap delle tante voci che ci sono state anche sul mercato in uscita. Sì, sì, ne abbiamo già parlato innanzitutto per la professionalità e il modo in cui ha approcciato anche quella situazione dove veniva utilizzato meno e poi quando è stato chiamato in causa ha risposto presente e quindi vuol dire che il suo comportamento, il suo atteggiamento lo ha premiato e ci ha premiato e quindi come già abbiamo detto gli abbiamo fatto anche i complimenti perché poi sono situazioni non scontate e oggi magari il ragazzo preferisce mollare, preferisce trovare l'alibi, preferisce dare la colpa a Tizio, la colpa a Caio, invece poi questo dimostra che alla fine poi tutti possono essere utili e devono stare sempre tutti sul pezzo. È un giocatore che fa parte di quei giocatori che dicevo prima che i mesi di lavoro si vedono, è un giocatore che oggi riconosce molto di più e in maniera molto più veloce quello che uno gli chiede, è un giocatore della nazionale, è un giocatore importante, è un giocatore che sicuramente ha un suo valore significativo all'interno di questa squadra. Michele. Se riguardo a Bonfanti, dicevi che era un giocatore ovviamente con caratteristiche diverse, ma al di là dell'eventuale ruolo, prima punta, come lo vedi? Potrebbe fare in modo magari di schierare in una posizione diversa anche altri giocatori come Moreo che potrebbe avere più licenza magari sulla tre quarti oppure uno stesso Torregrossa che potrebbe stare dietro di lui? Insomma, ecco, ti sei già posto questo problema? Sì, sì, certo. È una punta, quindi su di lui ci sono pochi dubbi. Magari gli altri possono ricoprire ruoli differenti. Lui è il classico centravanti, è un ruolo che come abbiamo spesso detto ci è mancato, quindi le opportunità di formazione, di moduli possono variare sicuramente, però su di lui abbiamo la certezza che comunque sia un giocatore che gli piace poi stare dentro l'area, che gli piace far gol, che vive un po' per queste dinamiche e quindi è per questo che ti dico che è un calciatore molto utile per noi perché magari all'interno della Rosa ci mancava un po'. Sono altre domande? Giovanni Manenti. Una generale. Avevo ragione perché è uscito una statistica di fine giro d'andata che quest'anno è l'anno in cui ci sono state il maggior numero di vittorie in trasferte di tutta la Serie B della storia. La dimostrazione è che anche il Pisa nelle ultime quattro partite al di là dei risultati ha giocato molto meglio in trasferta che non in casa. Che analisi fai di questa situazione? Che non è casuale a questo punto. No, 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 ma già ne abbiamo parlato e ti avevo dato ragione già prima. Io non so darti una risposta, però se capita così spesso e un po' a tutti una motivazione ci può stare. forse è un campionato dove in trasferta, però parlo magari delle altre squadre. A noi una motivazione non te la so dire, ti dico la verità. Forse è una statistica, forse è un dato che dobbiamo migliorare, dobbiamo cambiare, ma una motivazione vera non c'è perché è un paradosso. Cioè è meglio giocare in casa che giocare fuori. Su questo non ci devono essere mai dubbi, ma soprattutto qui, soprattutto in una piazza, in uno stadio che è noto perché ti dà una mano, perché poi sono successe tante cose, la storia dei tifosi che sono entrati, lo stadio, i problemi, eccetera, i risultati. Quindi si è creato un po' un qualcosa di negativo dove ci abbiamo messo anche del nostro noi. Mi auguro veramente che tutto questo sia finito, che tutti i vari problemi extra che non ci riguardano si mettano da parte per il bene di tutti. noi quello che possiamo fare è cercare di dare tutto, di dare il massimo affinché poi questo stadio diventi un fortino perché loro ci sono sempre, loro ci danno una mano sempre e quindi l'augurio è questo. È un peccato avere questi dati e quindi dobbiamo fare in modo di cambiarli. Ma potassi che sono i giocatori che sono maturati che hanno meno paura di giocare a trasferta? Ma questo però è un problema, quello vuol dire che già hanno paura di giocare in casa, quello può essere un problema. Sai però quando c'è il rumorino, il brusio, come lo chiamate qui voi? Il bubolio. Magari c'è il calciatore che gli dà un po' fastidio, c'è il calciatore che se ne frega e può essere anche quello un dato. Ma ci può fare tutto, ti ripeto, una risposta non c'è, una risposta non c'è. Andrea Chiamacci e poi Massimo Corsini. Senti, mi riallaccio un po' alla domanda che è stata fatta prima sulla partita di domani. Le due squadre hanno qualcosa di simile anche nell'idea di gioco sia tua che di l'est, anche nel percorso di crescita perché noi come loro abbiamo cambiato tanto e hanno finito bene loro l'anno, non hanno fatto sei punti, bisogna hanno fatto i quattro, però insomma, vedi un po' di similitudini in tanti aspetti tra le due squadre anche nel modo di intendere il calcio, nel modo di giocare? Sì, qualcosa c'è, credo che siano due squadre che lavorano in maniera differente ma ci sono delle anomalie. Ti ripeto, quello che ho visto e che vedo è innanzitutto un allenatore preparato, un allenatore che ha una storia veramente importante, un allenatore che conosce determinate dinamiche in maniera molto afferrata, è stato uno dei più grandi difensori della storia del calcio e quindi è ovvio che ti può trasmettere qualcosa di importante. Vedo una squadra che prova a giocare, vedo una squadra che ha delle idee e vedo la squadra che è formata di calciatori molto interessanti, qualcuno più giovane, qualcuno meno, ma dei calciatori con chi separatamente storie, magari chi si vuole rilanciare, chi è giovane deve far vedere, chi magari viene da momenti negativi eccetera, è una squadra che ha anche una buona attitudine. Quindi ti ripeto, è una partita difficile, è una partita complicata dove noi dobbiamo essere preparati sotto l'aspetto mentale ma il focus, come vi dico sempre, poi lo andiamo a porre su noi stessi perché dobbiamo far noi la partita fatta in un certo modo. Massimo Corsini. Minister, ciao, ti chiedo una cosa che va al di là della partita di domani ma che riguarda insomma la strada che ha preso il mondo del calcio da un anno e mezzo a questa parte. Nelle 19 partite del giro d'andata il Pisa ha giocato 172 minuti di recupero, sono quasi due partite che è il 60% in più di quelle che aveva giocato l'anno scorso. Questo è un dato che analizzate e soprattutto ti chiedo se è un dato che cambia anche il tuo mestiere, modo di vedere la partita, di fare la partita. È tantissimo secondo me. È molto e è ovvio che tu poi, il calcio sta cambiando, lo vedete, rispetto a quando giocavo io sembra un altro sport per tante dinamiche. È ovvio che tutti questi minuti di recupero fanno sì che la partita dura molto di più, fanno sì che le partite non finiscono mai. È un campionato dove magari ci sono, come con la Ternana, mi sembrava una partita di pugilato dove ha preso, ha preso, ha preso e poi dicevo alla fine può succedere tutto. Quindi dobbiamo saperlo che è un campionato di questo genere, ne abbiamo già pagato le conseguenze diverse volte e quindi oggi siamo a 4-5 mesi di lavoro e quindi mi auguro che tutto quello che è successo lo abbiamo fatto nostro, ne abbiamo fatto tesoro e andiamo a prevenire quelle che sono delle problematiche che possono avvenire. Come un esempio, ti ripeto, può essere quello di Terni dove tu hai fatto di tutto e di più per vincere la partita, poi nei minuti di recupero se non stai attento e magari prendi qualcosa la perdi e quindi ti fa capire che questo discorso che mi hai fatto te incide molto nei risultati e bisogna prevenire. Posto? Grazie a tutti.